Barrucchieri Francesco Esposito vi lancia una grande offerta promozionale per tutte voi donne fino a fine novembre. La prima offerta promozionale è composta da shampoo più piega più taglio più colore, senza ammoniaca e più trattamento a soli 30 euro anziché 38, massimo risparmio di 8 euro. L'offerta è valida dal material venerdì. La seconda offerta promozionale per voi donne per il vostro look è shampoo più piega più taglio più trattamento a soli 10 euro anziché 18, grande risparmio di 8 euro. L'offerta è valida il mercoledì e il giovedì. Vi raccomando dovete sempre prenotare, prenotare naturalmente all'infoline 081 774 27 56. Sito si avvia Giuseppe Verdi 26 bolla, non mancate, vi raccomando, il vostro look è molto importante con Francesco Esposito, Barrucchieri. But I don't mind, in fact I like it, though I'm terrified, I'm turned, I'm scared of you, oh, she's a monster.